Nella puntata precedente, l'astronave interstellare opera perduta nello spazio più profondo riceve un segnale proveniente da un lontanissimo pianeta, il pianeta Terra. Rotta inserita, 187. Velocità senza limiti. Destinazione Sanremo. Roboteam, giorni e giorni di prove e non avete imparato nemmeno un passo? Ma cosa devo fare io con voi? Ma se chiamassimo quel ballerino, quello carino, quello bravo, quello da team. Grande idea, connettiamoci. Ciao, che bello rivederti. Ciao JSM, sono opera. Ti prego, JSM, falli ballare. È già giovedì. Siete proprio di latta. Siamo connessi. Scegli Huawei Mate 10 Pro con la potenza della rete 4.5G di Team. Tuo a 15 euro al mese. Team, Team, Team. Carino, no?